Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della projecto zone 3 Allora bentornati nella serie delle 7 e oggi andremo a parlare di elettricità Però prima voglio fare una precisazione Il suo ultimo video è pieno di commenti di gente che mi dice Sui ma guardale meglio le ceste, cacchio ma sei incecato? Non avevi visto che ce le avevi 12 log di Tigerwood? Ti servivano i log? Ce le avevi? Cacchio Ragazzi, allora sono consapevole che spesso Avendo ceste così incasinate mi perdo e non trovo alcune cose all'interno Lo sappiamo tutti, capita, capita Chi guarda le mie serie da un po' lo sa, succede Però in un caso tipo quello di ieri in cui abbiamo provato addirittura con il legno Con il legno di betulla e ho visto che non funzionava E mi avete detto, ah no cacchio ce le avevi i log? Ma non è vero perché con il Tigerwood non funzionava Con il Sakurawood non funzionava C'era bisogno per forza del logwood o di qualche altro tipo di wood Però non mi sono messo da controllare Solo a prendere logwood che ero sicuro funzionasse Quindi ecco, più che altro Pieno di commenti di sto tipo Cioè, è frustrante perché dico Cazzo ma il video lo guardate o no? Vabbè, ad ogni modo Ad ogni modo Quest'oggi Sempre sotto suggerimento di alcuni commenti Voglio provare a creare una bella farm di energia Che ci servirà per alimentare i prossimi macchinari che dovremmo craftare Allora, come generazione di energia Mi piacerebbe Oh, si è spenta la luce Mi piacerebbe Andare sul solare Ok? Energie rinnovabili Cose pompose, belle Niente combustibili fossili Robi di questo tipo Usiamo i pannelli solari Anche perché nella stone block il sole non funzionava Cioè non c'era più che altro Tutto pietra Non c'era il cielo Non c'era stata bellissima roba Non c'erano le isole volanti Che poi andremo a esplorare Non vi preoccupate Quindi ecco Mi piacerebbe tantissimo utilizzare i solar panel Che ho visto sono una quantità impressionale Sono davvero tantissimi i solar panel Guarda, se cerco qua Solar panel Ce ne sono di diversissimo tipo Di diverse mod C'è quello della extra planets C'è quello della nuclear craft Se non sbaglio c'è anche della galacticraft 1 Esatto Full solar panel della galacticraft Che non sembra neanche essere troppo costoso Ma se aveva un macchinario che io al momento non ho Potrei crearlo ma Magari più avanti Nel senso comunque tutto genera energia Poi combiniamo tutto in un Non lo so In un battery pack In un Quello dell'ender IO O un altro Ora vediamo E capiamo Quelli che mi interessano di più Sono questi qua Allora c'è Solar flux Reburn Che fa un botto di roba L'abbiamo già utilizzata L'anno scorso abbiamo fatto il pacchetto moddato Non so chi se lo ricorda E qua Allora partiamo da Quello Questo intanto è della project red Quindi ci interessa Ma fino a una certa Noi vogliamo quello della solar flux Questo è il solar panel facile Legno Redstone E degli specchi Quindi ferro Più vetro Ci danno tre pannelli Questo è il base Che fa Un RF Qua c'è scritto FE Ma Quindi sono Uno RF Per tick Poi c'è il passaggio successivo Che sono Otto Trentadue Vedete che piano piano diventa sempre più complicato Centoventotto per tick E poi Cinquecentododici per tick Duemila Quarantotto per tick Questo qua Con il dragon breath Me ne fa due Ottomila per tick Andiamo avanti Abbiamo questo qua 32.000 RF per tick Con i dragon egg Poi c'è il wyvern Che si fa con Le robe della draconic evolution Quindi siamo proprio Aien Ma ci danno anche un botto di energia 65.000 Per tick Vuol dire un botto di energia Anche considerando che Non ne farei mai due Ne fai sempre un botto di questi Poi Andiamo sulle cose Ancora più potenti C'è il draconico Siamo 262.000 RF E poi il chaotic Che si fa con Combination crafting Che è una figata pazzesca E ci da Questi qua Da mezzo milione di RF Ma non solo Perché con la solar Fluxerbore si può andare oltre Si può andare oltre Abbiamo il neutronium Quindi andiamo anche Nell'extreme crafting Ultimate crafting table Quella enorme Che è l'extreme crafting table Che vedete usa Il neutronium E un botto di roba Ma non solo Si può andare Al solar panel Of infinity Quindi andare a generare Infinita energia Un po' come il rainbow generator Quella roba là Sempre Con L'extreme crafting table E un botto di Infinite ingot Che Già solo a pensarci Mi sparo Però Figata pazzesca Intanto sto diventando notte Visto che abbiamo avuto Brute esperienze con i mob Ultimamente Andiamo a dormire E poi ragioniamo sul da farsi Allora A differenza delle altre Serie che ho iniziato Finora Non voglio mettere Tipo la generazione D'energia Insieme ai macchinari Voglio separare le cose Quindi voglio fare un impianto Di generazione di energia E un po' E collegarlo Alle diverse cose Di cui ho bisogno Quindi ho bisogno di tanti cavi Sicuramente Probabilmente Investerò subito Non appena potrò In energia wireless Sperando che ci sia Sperando che ci sia il Flux point Oh cacchio C'è un access point Ma non vedo Nulla Per wireless Cacchio Allora Ora come ora Non mi viene da dire Che ci sia un effettivo Metodo Per Per Mandare L'energia In maniera wireless C'è una wireless Antenna Però Nell'inventario Fa sta roba A me serve qualcosa Che carichi i blocchi E poi cerchiamo Per il momento Creiamo il nostro impianto Allora sicuramente Riceveremo Dell'energia Ma voglio anche Mettere questa energia Da parte Quindi andiamo a creare Sempre sotto questo Suggerimento Non l'avevo mai Craftato Quindi ora Vediamo insieme Il battery box Sta roba qua Allora battery box Serve del ferro Un electro line Ingot Che si fa In questo modo Si aveva Electro Tine Ok Electro Tine Che ho trovato in miniera Si trova anche Mettendo la sabbia Nel setaccio Cosa che ho fatto Proprio prima di stare In questo video Perché me ne mancava un po Poi del legno Semplicissimo E delle batterie Batterie che si fanno Con tin E copper Cosa che noi abbiamo In grande quantità Ora qua non è vero Però in realtà Ne abbiamo in grande quantità Che io sappia Ne ho a prendere un po Di tin Sperando che ce ne sia Nella nostra super farm Di minerali Che è veloce Ma non velocissima Quanto tin abbiamo? Poco Pensavo di più Va bene Allora abbiamo bisogno Di almeno Quattro batterie Quindi andiamo a fare così Facciamo Un due Uno Due Tre Quattro Non mi dice neanche Quanto Quanta energia Mantengono Però per il momento Non ci interessa Andiamo a craftare Anche questo Mi serve giusto Un lingotto di ferro Ok E già che ci siamo Entriamo qua dentro Perché voglio Cuocerlo subito Quindi facciamo così Così Ce l'abbiamo Lo piazziamo dentro La fornace Facciamo così Fast and Furious Ok E siamo a cavallo Eccolo qua L'electro Taino Alloy Ingot Craftiamo Un nostro Battery box Non è vero 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 Come ad esempio Del ferro Manca sempre il ferro Incredibile Cioè ce l'ho Ma non ce l'ho mai Nell'inventario Ok Abbiamo un battery box Ora Non so se possono collegare Tra di loro Sono abbastanza economici Mi direbbe da dirvi Quindi sembra una figata Se si potesse Per il momento Io direi che Il nostro impianto solare Potrebbe essere Qua in cima Una montagna Anche perché Indominato un po' È proprio quello Che di solito si fa Si mettono in luoghi In cui il sole Batte sempre Forte Come un euro Vabbè Facciamo stare Potevamo metterlo qua solo Per il momento Facciamo così Mettiamo il battery box Proviamo a vedere Com'è La situazione Allora Battery Oddio Sai che forse Serve più per gli oggetti Non so se può integrare Anche energia Per provare Visto che ormai L'abbiamo creato Fa parte Della project red expansion Sai che forse C'è qualcosa di più Sensato Va bene Proviamo Allora solar panel Andiamo a craftare Il primo in assoluto Quindi ho bisogno Di vetro Un bel po' Di vetro E ferro Legno E redstone Ferro Prendiamo leggero un po' Non ne ho mai abbastanza In inventario Il resto Usiamo Non ci interessa Andiamo a prendere Andiamo a fare Più che altro Del vetro Quindi prendiamo un po' Di questa roba qua La mettiamo qua dentro E iniziamo a cuocere Anche perché a casa Ce l'ho un po' Di vetro Ma non tantissimo L'ho usato praticamente Tutto per fare La casa qui E la fabbrica Ok Già con i primi sei Direi che possiamo lavorare Andiamo a fare così Ci creiamo I nostri sei bei mirror E possiamo fare i nostri primi due Non posso fare assolutamente uno Mi serve anche della redstone Che qui non c'è Ma dovrebbe essere Nella prima cesta Perché avanza Non viene trasportata Nessuna parte Esatto E ora magicamente Possiamo creare I nostri primi I primi solar panel Che sono due Sono i basic solar panel Mi ha dato anche Una bellissima missione Solar flux one Quest complete Bellissimo rumorino Delle quest All'inizio mi sono spaventato Ma che bellissimo Allora prima metterne uno Qua accanto Viceva energia In qualche modo Sta generando energia Sta generando energia Ha un buffer interno Di 25.000 FE Che vi dirò Potrebbero essere In realtà RF Perché mi piaceva In più se si chiamasse RF Perché siamo abituati così Vabbè Fatto sta che però Non funziona Questi si uniscono Figata Stiamo generando 25.000 Di qua Sono due diverse No È la stessa in teoria È la stessa Ma mi mette comunque Come massimo 25.000 Di storage Non è 25.000 Per blocco Allora Battery box Effettivamente Abbiamo capito Che non serve Fare ciò che pensavo Quindi abbiamo bisogno Di un altro metodo Di storage Di energia Allora cerchiamo Energy Storage Ok Energy storage Abbiamo Le energy cell Della Applied energy sticks Che utilizzano però Il certo squartz Non mi piace tantissimo Come mod Ora non sto guardando Quello che è più Efficiente Sto andando Un po' a caso Storage module Non mi interessa Portable cell Questi Basic induction cell Ok Questi sono tipo Addirittura GRF Cosa sono 200 Ok Sto andando Sembrano fighe ragazzi Basic energy cube Advanced Energy cube La Meccanismo Potremmo provare Usare la meccanismo Oddio Ci sono anche Altre cose 64 milioni Di RF Così A caso Nel tier 1 Porca vacca Sono delle bestie Di satana Ste robe Come cacco Come si crafta Sono anche Abbastanza facili Un blocco di magnesio Ah no Aspetta Extra planets Ok Io dove cacchio Ho preso Prendo il magnesio Ma sai che ce l'ho il magnesio Cioè Nel nuclear craft Ti dà a disposizione Così tanta Storage di RF Per così poco 22 milioni Addirittura Questo 999 milioni È un miliardo Stato perché il tier 2 C'ha più energia Del tier 3 Non ha senso Porca vacca Guarda questi Va bene Allora Per il momento Ci baseremo Sulla meccanisma E faremo un basic energy cube Che dici Potrebbe avere senso 800 mila RF Vi sembra comunque sensata Come roba Abbiamo bisogno di Creare Ah L'energia del ROI Quindi bisogna fare Il metallurgico infuser Ok possiamo farlo Facciamolo Lo facciamo Lo facciamo Prendiamo però Anche questi E li portiamo giù Per il momento Perché Prima di fare Qualsiasi cosa Bisogna di energia Da dare al mio amichetto Non è che questo Parte da solo Allora abbiamo bisogno Di osmium Che abbiamo In grande quantità Fortunatamente E ho bisogno Di un po' di cobblestone Perché devo fare Due fornaci Ecco Il super panel Qui magari Oh diamine La grey plastic Orca vacca No È questo un problema Convinto Di fare questo Steel casing Ma lo steel casing Purtroppo Oltre ad avere Lo steeling All'interno Che comunque Riuscirei a fare Il problema Lo steel casing Tra l'altro Io non avevo trovato Qualcosa del genere No Aveva stato L'iron casing Non lo steel casing Il che mi rende Molto poco felice A essere sincero Mi sono preoccupato Troppo di un altro Tipo di blocco Che devo craftare E non dello steel casing Che in realtà È più importante Perché il blocco principale È qua in mezzo Ma io non posso farlo Come posso farla Io sta grey plastic Ho bisogno di liquid plastic Ma io non so come farla C'è bisogno di qualche tipo Di raffineria 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 Sì Va bene Come non detto Allora Energy storage Visto che per il momento Questi non sono creabili Vi dirò la verità Proviamo a fare Questo qua Il basic Voltaic pile C'è È OP È decisamente OP Io il magnesio Dovrei averlo Ne ho 6 Cacchio Posso Dastarlo Posso A cavallo Proviamoci ragazzi Non lo so Non so cosa aspettarmi Magari non funziona Manco questo Mi sembra troppo OP Per essere vero Ok abbiamo 12 blocchi Di magnesio Io mi piacerebbe Rimettere questo lì Ma non posso Vabbè lo metteremo qua Per il momento Poi lo smontiamo Allora ho bisogno Anche sicuramente di Cos'è carbone Per fare il grafite Ok Stiamo generando La grafite Non so quanto me ne servirà Però vi mettiamo un po' Abbiamo il martello Che serve Con questo bellissimo oggettino Facciamo così Martello alla mano E si va Di cattiveria Ci serve anche del led 1 e 2 Perfetto Poi ci serve Il blocco di magnesio Ma in teoria Posso farlo Magnesio in bloc Ce l'abbiamo Incredibile Mi manca solamente Un po' di copper E a rigor di logica Dovremmo esserci Che ha dell'incredibile Perché 64 milioni di RF Sono tantissimi ragazzi Vabbè Vediamo Che succede Era così giusto Ok me ne da due Ho bisogno di altri due pezzi Vediamo se me lo fa craftare Ce l'abbiamo signori Quanto pare abbiamo Un 64 milioni di RF Sono tantissimi Sono tantissimi Vediamo se funziona Stiamo Stiamo mettendo a parte 64 milioni di RF Che bomba Signori Cioè Wow EOP Nuclear craft EOP Poca vacca Tito da verità Andiamo a craftare Un altro po' di vetro Facciamo Il livello successivo A questo punto Siamo qua Prendiamo un altro po' di sabbia Io so che non costa assolutamente nulla Faresti solo al panel Ti da un'energia costante Tanto vale sfruttarla Ok Ho 24 pannelli Di quel tipo Posso farne 6 6 più 2 Fa giusto giusto 8 Beh in realtà posso farne Anche un po' di più Che non ho altri 3 Quindi Facciamo così Facciamo altri 2 E con questi 8 A questo punto Andiamo a craftare Un bellissimo Simpaticissimo pistone Che in teoria posso fare Perché a rigore di logico Ho tutto nell'inventario E andiamo a creare Il tier 2 Ok Abbiamo il tier 2 Niente missione? Eccola Quest completa Solo al flux livello 2 Me l'aspettavo E piazziamo anche questa Lo piazziamo di qua E ora stiamo generando Molta più energia Perché questo mi fa Quanto mi fa? Non mi fa nulla Sta diventando un 8 per caso? Ah no Sì sì Stavano facendo Solo che non mi mostra Effettivamente Quanto al secondo Non mi dà la generazione Però era se non sbaglio 8 per tick Esatto Voilà Signori Sicuramente posso fare Tanti altri solar panel Cercherò di arrivare Magari al tier 3 O tier 4 Che se non è quello Che posso fare per il momento 3 posso farlo Tier 4 Ti dirò Forse anche tier 4 Diventa già un po' più complicato Con il crafting Forse tier 3 Ci arriviamo Però stiamo generando energia Tanta roba Tanta roba Alla grande Devo solo capire Come passarla In maniera wireless Datemi suggerimenti Nei commenti Sarebbero molto apprezzati E niente Per questo video è tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Ci vediamo domani alle 7 Con il prossimo episodio Della serie delle 7 Ciao turuturututti